Ho fatto una campagna elettorale con le scarpe da tennis messe ai piedi e continuerò a fare un'opposizione a questo punto, sempre tra la gente, nei quartieri, nel centro, ovunque per Pescara. Quindi sono certa che anche grazie, anzi sono sicura, che anche grazie al lavoro che faremo dai banchi dell'opposizione potremo far sì che Pescara possa essere ancora più bella. Sarà infatti proprio Marinella Sclocco a guidare l'opposizione, sarà lei il capo dell'opposizione. Prima il sindaco Masci parlava di interventi prioritari, il mare più pulito, la pulizia della città. Quali sono le priorità secondo il centro-sinistra, secondo Marinella Sclocco, di cui tenere conto adesso per governare Pescara? Sì, sicuramente il mare è una priorità, come ho detto più volte in campagna elettorale, grazie ai fondi messi a disposizione dalla Regione e dalla mia Giunta. Io insomma spero che il mare possa avere periodi migliori, possa tornare ad essere pulito, ma ci saranno moltissime grandi scommesse, perché c'è tutta la partita dell'area di risulta, tutta la partita dell'ex cofa e poi certamente anche la partita di cui tanto si è parlato, ma che spero possa davvero far sì che le persone possano avere un rapporto diverso con il Comune, cioè la questione che riguarda i quartieri e le periferie che si sentono sempre più staccate dal Comune. Quindi partite importanti che necessitano non solo grande serietà, ma anche grande attenzione da parte dell'opposizione. Noi vigileremo, saremo davvero lì sempre sul pezzo e insomma non saranno cinque anni facili.